Un saluto dal Tg della Mobilità. Metro C, dallo scorso 11 gennaio, sono ripresi lavori serali per il prolungamento della linea da San Giovanni al Colosseo. Dall'11 gennaio, quindi, la sera tra San Giovanni e Pantano, al posto dei treni, sono in servizio i bus. La partenza dell'ultimo treno da Pantano è prevista alle 20.30, da San Giovanni alle 21. Poi, appunto, sono in strada le navette MC ed MC3. La linea MC transita nei pressi di tutte le stazioni Metro C, ad eccezione di Malatesta, Teano, Gardenie e Mirti. Mentre la MC3 transita nei pressi delle stazioni Lodi, Pigneto, Malatesta, Teano, Gardenie e Mirti. E tutto appuntamento alla prossima edizione.